Vaccini, il giorno della verità. Scade il 10 marzo il termine per presentare la dichiarazione di regolarità vaccinale per gli studenti da 0 a 16 anni, secondo le disposizioni introdotte dal Recreto Lorenzin. Lo ricordiamo, la legge ora obbliga i genitori a sottoporre i propri figli a 10 vaccinazioni per iscrizione a scuola. Antipoliomilitica, antidifterica, antitetanica, antiepatite B, antipertosse, antiemofidus influenza tipo B, antimorbillo, antirosolia, antiparotite e antivaricella. Quest'ultima in realtà è obbligatoria solo per i nati dal 2017. Ai genitori che entro il 10 marzo non consegneranno il certificato di avvenuta vaccinazione dei propri figli iscritti alla scuola, sarà combinata una sanzione amministrativa da 100 a 500 euro, non prima di una convocazione da parte della AST per un colloquio informativo finalizzato a sollecitare l'adempimento. Per i minori da 0 a 6 anni che invece frequentano asili nido e materne, la mancanza di vaccinazione costituisce motivo di esclusione dal servizio educativo. In provincia di Lecco la SST ha rilasciato circa 22.000 certificati vaccinali, centinaia dei quali negli ultimi giorni si tratta più o meno di metà della popolazione scolastica. Non dimentichiamo, spiega Luca Sesana, direttore territoriale della SST Lecco, che ci sono anche quanti sono esentati perché hanno fatto queste malattie e hanno bisogno di un apposito certificato dal medico di base. Voglio comunque sottolineare, prosegue Sesana, come circa 700 genitori inadempienti hanno seguito il nostro consiglio e hanno deciso di mettersi in regola. Ci sono infine anche coloro i quali hanno prenotato la vaccinazione per i figli e non sono riusciti a sottoporli entro il 10 marzo. In questo caso, conclude Sesana, basta fornire la documentazione alla scuola per non incorrere in problemi o sanzioni. Chi non l'avesse ricevuta può contattarci senza problemi. Resta una quota di genitori che invece non hanno intenzione di vaccinare i propri figli. I controlli sulle inadempienze spettano alla TS e le verifiche, stando ai regolamenti, partiranno da fine mese.